Dici dell'Utes ben trovati, proseguiamo i nostri incontri su Raffaello. Dopo avervi illustrato il ritratto di Baldassarre Castiglione, oggi vi presento il ritratto di Papa Leone X, che Raffaello dipinse nel 1518 e che è conservato al Museo degli Uffizi. Un'opera che potremmo definire un manifesto politico del potere di casa Medici. I tre personaggi effigiati, infatti, sono tre cugini appartenenti entrambi alla famiglia, la celebre famiglia Medicea. Papa Leone X è Giovanni de' Medici, secondo genito di Lorenzo il Magnifico e di Clarice Orsini. Alla sua destra, Cardinal Giulio de' Medici, figlio illegittimo di Giuliano, fratello di Lorenzo, barbaramente ucciso il 26 aprile del 1478 nella congiura dei Pazzi all'interno del Duomo Fiorentino di Santa Mere del Fiore. E Giulio nacque proprio un mese esatto dalla morte del padre, il 26 maggio del 1478. Proprio per questo motivo, forse per onorare la figura del padre appena deceduto, Lorenzo riconobbe il figlio illegittimo di Giuliano come membro ufficiale di casa Medici. Lo prese sotto la sua ala protettiva, lo frece crescere accanto ai suoi figli, soprattutto accanto a Giovanni, con il quale condivise non solo l'adolescenza, ma anche gli studi universitari a Pisa, i campi di battaglia in cui li videro impegnati insieme a difesa del Ducato Medicio e poi della Chiesa e soprattutto, dopo il 1513, quando Giovanni fu eletto al Soglio Pontificio, la carriera ecclesiastica che lo portarono a vestire la carica porporale di Cardinale. Alla sinistra del Papa invece Luigi De Rossi, anche lui membro di casa Medici, figlio di Maria Medici, sorella maggiore di Lorenzo e Giuliano. Un bel spaccato della famiglia di Piero dei Medici si può ammirare nella famosa Madonna del Magnificat di Sandro Botticelli del 1481, conservata anch'essa alla Galleria degli Uffizi. In questo meraviglioso tondo che vi invito a vedere su Google o su qualche libro di storia dell'arte, si vede proprio davanti alla Madonna col bambino tre giovani, uno con il calamaglio in mano, probabilmente Lorenzo De Medici, con accanto Giuliano e dietro la sorella Maria, mentre le sorelle maggiore, Bianca e Nannina, sorreggono la corona della Vergine Maria, impersonificata dalla moglie di Piero De Medici, Lucrezia Tornabuoi, mentre il bambino potrebbe essere la figlia di Lorenzo il Magnifico, Lucrezia. Giovanni quindi fin da bambino, respirando l'aria culturale, filosofica della corte di Lorenzo il Magnifico, aveva sperimentato quale efficace strumento di potere di consenso fosse l'arte e una volta salito al soglio di Pietro, figlio di tanto padre, sicuramente ne sfruttò tutte le potenzialità. Il ritratto che Raffaello esegui nel 1518 fu realizzato proprio perché il pontefice, insieme ai due cardinali, non poterono partecipare alle nozze di Lorenzo di Piero De Medici insieme a Mandalen della Tour Duvernia, che si sarebbe tenuto a Firenze nel settembre del 1518 e quindi il pontefice chiese a Raffaello di realizzare quest'opera proprio per sopperire alla sua assenza al banchetto nuziale. Ma tante altre volte Leone X chiese a Raffaello di realizzare delle opere che potessero essere degli insigni doni diplomatici da conferire e da inviare alle principali corte europee. Come non ricordare, ad esempio, come vedete qui rappresentati, San Michele Arcangelo che sconfigge Satana e la Sacra Famiglia di Francesco I. Entrambe realizzate anch'esse nel 1518, lo stesso anno del ritratto, opere che appunto furono recapitate come doni come regali al re di Francia Francesco I. O come non ricordare le committenze di Giulio De Medici, del cardinale effigiato alla destra nel ritratto raffaellesco, una nel 1520, la trasfigurazione che chiese a Raffaello e Bottega, l'opera su cui Raffaello pose il suo pennello fino agli ultimi giorni di vita, ci raccontava Sari. Non l'ha conclusa, infatti, perché fu colto dalla morte nell'aprile del 1520, fu ultimata da Giulio Romano e dalla sua bottega, ma ci raccontava Sari che questo meraviglioso dipinto, oggi conservato nella Pinacoteca Vaticana, compariva proprio alle spalle del corpo esanime di Raffaello. E un'altra opera che Giulio commissionò, questa volta Sebastiano del Piombo, è la resurrezione di Lazzaro. Entrambe le opere devono essere destinate per la sede vescovile, a cui Giulio era stato nominato a Narboni, in Francia, ma altro non sono che un importante anello di congiunzione nei rapporti tra la santa sede e, appunto, la corona francese. Anche l'esaltazione di sé, l'esaltazione del casato Medicio, furono temi predominanti in molte altre commissioni che Papa Leone X chiese, appunto, a Raffaello. Ad esempio, l'incontro fra Attila e Leone Magno, rappresentato nella stanza all'Irodoro, dove nella figura di Leone Magno compare, appunto, il volto di Papa Leone X. E il cavallo bianco su cui è seduto Papa Leone Magno nell'affresco di Raffaello è lo stesso cavallo bianco tanto amato dallo stesso Leone X. Così come non ricordare, eccoli qui, come non ricordare i dieci arazzi realizzati sul cartone, sul disegno di Raffaello, e realizzati poi sul tessuto dai laboratori fiamminghi di Bruxelles, che tra l'altro pochi mesi fa sono stati esposti per una settimana nuovamente, dal 17 febbraio al 23 febbraio all'interno della Cappella Sistina, proprio per dove erano stati commissionati da Leone X a Raffaello. Leone X, all'interno degli ambienti vaticani, una volta salito al soglio pontificio, si rese conto che tutto ciò intorno a lui era un'esaltazione della casata di Della Rovere. La Cappella Sistina, così chiamata, proprio in onore di Francesco Della Rovere, Sisto IV, che la ristrutturò, la fece riammodernare, fece completamente cambiare l'antica Cappella Magna, riallestendola e decorandola, facendola decorare da quella grande bottega fiorentina che era quella del Verrocchio, dove nell'ottobre del 1480 giunsero i più grandi artisti provenienti da quella bottega. Botticelli, Perugino, Domenico Ghirlandaio, Pinturicchio, Cosimo Rosselli, Bartolomeo della Gatta, Pier Matteo D'Amelia, Luca Signorelli. Per non parlare poi della decorazione delle stanze vaticane, volute da un altro esponente della casata della Rovere, Giuliano della Rovere, Papa Giulio II, che non solo chiamò Raffaello per affrescare le stanze, ma anche Michelangelo per divincere la meravigliosa volta della Cappella Sistina. Papa Leone quindi doveva in un certo qual senso marcare il territorio, ecco perché chiese a Raffaello la realizzazione di dieci arazzi, chiese a Raffaello di rappresentare l'incontro fra Attila e Leone Magno inserendo il suo volto e chiese a Raffaello di portare avanti l'iconografia, la decorazione delle stanze vaticane, soprattutto nell'incendio di Borgo, rappresentando per esempio il giuramento di Leone IV e l'incoronazione di Carlo Magno. Senza poi dimenticare che Papa Leone X X fu nominato pontefice l'11 marzo del 1513. 1513. E un mese esatto dopo ci fu una grande festa e fu davvero il manifesto, il primo manifesto politico del suo pontificato. L'11 aprile del 1513 entrò appunto in San Pietro su quel cavallo bianco che tanto amava e che tanto aveva curato nel corso della sua vita fino alla vecchiaia e fino a quando il cavallo non morirà. E un anno esatto prima, nel 1512, proprio in quello stesso giorno, l'11 aprile, giorno in cui la chiesa festeggia San Leone Magno, lui era stato fatto prigioniero nella famosa battaglia di Ravenna, voluta da Papa Giulio II, dove lui cardinale fu fatto prigioniero insieme al suo cavallo e riscattò con una somma molto ingente addirittura il cavallo dai suoi nemici, per quanto ne fosse affezionato. Leone X, abbiamo detto, era il figlio di Lorenzo il Magnifico. Cresce in un ambiente culturale straordinario, amante degli studi, della cultura, della filosofia, delle arti, della letteratura. Fu lui, fu Leone X a inaugurare un corso universitario di lingua greca a Roma e fu lui a capire che i monumenti romani potevano andare incontro a dei seri danneggiamenti e si occupò della conservazione di tali monumenti. Non a caso, nel 1515 nomirò Raffaello Ispettore Generale delle Belle Arti e gli chiese di condurre una mappatura dei monumenti principali dell'antica Roma. Raffaello si dedicò anima e corpo a questa cartografia, a questa mappatura, a questa catalogazione dei monumenti, nel valutare anche lo stato conservativo di questi monumenti artistici di Roma. Purtroppo non riuscì mai a completare il suo lavoro, tanto vasta era la mole che lo attendeva, ma gran parte di esso lo realizzò. E famosa è la lettera di presentazione, l'incipit a questo straordinario lavoro, che scrissero a quattro mani lui e Baldassarre Castiglione nel 1519, la famosa lettera proprio a Papa Leone X. Il dipinto fu eseguito nel 1518 ed era subito a Firenze dopo qualche settimana, qualche mese al massimo. Il triplice ritratto appunto giunse a Firenze e fu custodito da Ottaviano de' Medici ai tempi di Vasari e fu successivamente posto all'interno del guardaroba ducale di Palazzo Vecchio. Dal 1589 la sua collocazione fu la tribuna degli uffizi, ma già nel 1697 era passato a Palazzo Pitti, da dove fu prelevato dalle truppe francesi nel 1799 per essere portato a Parigi. Rientrato a Firenze nel 1816 rimase a Palazzo Pitti a meno fino al 1952, con una breve assenza durante la Seconda Guerra Mondiale, quando fu prelevato e portato, come molti altri capolavori, appoggio a Caiano. Quando poi, nel 1952, terminata ormai la guerra, fu collocato, dove oggi ancora si trova, all'interno della Galleria degli Uffizi. Il dipinto ha subito numerosissimi interventi di restauro. Fin da quanto è giunto a Parigi, alla fine del XVIII secolo e l'ultimo è stato effettuato qualche mese fa. All'inizio si è concluso all'inizio del 2020 proprio perché l'opera doveva essere esposta alle scuderie del Quirinale di Roma alla grande mostra di Raffaello. In due missive, in due lettere datate 1 e 2 settembre del 1518, Benedetto Buondelmonti, segretario personale di Lorenzo Duca di Urbino, scrive all'allora segretario di Casa Medici, Goro Gheri, che il ritratto papale era in viaggio da Roma verso Firenze e che sarebbe arrivato nella città gigliata alla notte di domenica 5 settembre o al più nelle primissime luci dell'alba di lunedì 6 settembre. L'8 settembre, due giorni dopo, Alfonsina Orsini, madre di Lorenzo Duca di Urbino, scriveva a Giovanni Lapucci da Poppi, segretario del Duca di Urbino che era rimasto a Roma, questa lettera che vi vado a leggere. Ovvio a dire che la pettura di nostro signore e monsignore reverendissimo dei medici Etterossi e il Duca la fece mettere sopra la tavola dove mangiava la duchessa e gli altri signori, in mezzo, che veramente rallegrava ogni cosa. L'opera quindi fu posta al centro del banchetto nuziale. Giunse in tempo a Firenze, in tempo per i festeggiamenti del matrimonio di Lorenzo de' Medici con Maddalene della Tour du Verne, matrimonio che già si era celebrato in Francia ad Ambois il 2 maggio di quello stesso anno, ma che Lorenzo de' Medici volle di nuovo ripetere nella città gigliata con la giovanissima moglie facendo nuovamente le nozze e una grande festa. La composizione del dipinto, che vede il pontefice al tavolo leggermente in diagonale, con accanto alla sua destra il cardinal Giulio de' Medici e alla sua sinistra Luigi de' Rossi. Risente forse di quel famoso ritratto, purtroppo oggi perduto, di Jean Fouquet, conservato però a tempo nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva, rappresentante Papa Eugenio IV tra due personaggi della sua corte. Così come certamente il ritratto di Raffaello può essere messo in relazione, almeno per la struttura, la composizione del dipinto, non certamente per la tecnica che è molto più di qualità, con due opere di Sebastiano del Piombo che adesso vi mostro. Eccoli qui. Il ritratto del cardinale Ferri Carondelet, con due segretari, a sinistra, datato 1512-1513, conservato a Madrid. E un'opera sempre di Sebastiano del Piombo, il cardinale Bandinello Sauli e tre amici, opera del 1516, conservata a Washington, sulla destra. Quindi per la composizione sicuramente possiamo avvicinare queste due opere di Sebastiano del Piombo al ritratto di Leone X di Raffaello, ma sicuramente la distanza siderale nella qualità materica è decisamente straordinaria. E a testimonianza vi riporto le parole di Giorgio Vasari, che descrivendo appunto l'opera e il ritratto di Raffaello, scriveva così. Quivi è il velluto che ha il pelo, il domasco addosso a quel papa che suona e lustra, le pelli della fodera morbide e vive, e gli ori e le sete contraffatti sì che non colori, ma oro e seta paiono. Vi è un libro di cartapeco ramignato, che più vivo si mostra che la vivacità, e un campanello d'argento lavorato che non si può dire quanto sia bello. Le parole di Vasari sono straordinarie e alla descrizione di Vasari possiamo aggiungere la qualità cromatica resa da Raffaello nelle splendide tonalità di rosso, negli incarnati dei personaggi sfumati sul fondo bruno, nonché dell'architettura, imparentata per via soprattutto di quello scorcio con questa prospettiva architettonica, con un'altra opera realizzata da Raffaello, per Leone X, ossia l'incoronazione di Carlo Magno nella stanza dell'incendio di Borgo. La mozzetta rossa, bordata sulle spalle di Ermellino, e il camuro che il pontefice indossa in testa, esprimono la dignità papale. Il volto però di Leone X trasmettono equilibrio, serenità, come se la calma del sovrano, che ha piena coscienza di sé, si fonde con il diplomatico, pensieroso, che con prudenza escogita e pensa ai suoi prossimi programmi, ai suoi prossimi calcoli politici. Possiamo ipotizzare, guardando il ritratto, come sia stato realizzato probabilmente nel tardo pomeriggio. Si può notare come sulle guance dei tre personaggi emerge appunto un accenno di barba, di barba scura, come se di giorno i personaggi, o forse Raffaello, erano impegnati in altre faccende e si concentrano soltanto nel pomeriggio per realizzare il ritratto. Concentriamoci ora sugli oggetti posti sulla scrivania del Papa. Il campanello da camera, cesellato, in argento e argento dorato, bellissimo, poggiato sul tappeto rosso che copre la scrivania del Papa, reso in primissimo piano, reca le decorazioni particolarissime. Sono combinati i girali, con simboli araldici medicei, come l'anello a punta di diamante, sappiamo come i medici fossero particolarmente appassionati per le pietre preziose, incastonati all'interno con tre piume, il simbolo appunto di Casa Medici, soprattutto di Lorenzo dei Medici. Le tre piume ancora oggi non sono state del tutto identificate, chiarite dagli storici dell'arte. Probabilmente alludono alla fede, alla speranza e alla carità, le tre virtuti ologali, o forse le tre forze della natura, aria, terra e acqua. Mentre a sinistra compare nel campanello cesellato lo stemma Medici, con le famose sei palle, sormontata dalla tiara pontificia con le chiavi decussate e le infule sollevate, e incorniciate il tutto ciò da un broncone di alloro sostenuto da due figurette fitomorfe, che è il simbolo di Papa Leone X, ma che era prima il simbolo appunto del padre Lorenzo dei Medici. Allude anche alla Casata Medici il pomello, il pomolo dorato sulla sedia, eccolo qui, che riflette la luce che proviene dalla finestra, che sicuramente è sulla destra, e lo vediamo appunto nel particolare del pomolo, dove si può anche vedere riflessa la schiena del pontefice. Il campanello, torno indietro, è la dimostrazione di come Raffaello fosse un grande appassionato di arte antica, e lo rivela, e rivela fino a che punto il pittore di Urbino riuscisse ad assorbirne tutte le peculiarità, il carattere dell'uomo che studia e che conosce l'antico. Guardiamo la baccellatura della calotta, il cordoncino all'inizio dell'ampia svasatura della gonna che divide le due porzioni d'argento, la treccia che orna l'ampia bocca. Sono, in posizione inversa, esattamente gli stessi motivi che si ritrovano su alcune basi delle colonne del Tempio di Marte Ultore nel foro augusteo di Roma. Una di esse, ai tempi di Raffaello, era conservata nella chiesa romana di San Marco, un'altra nella chiesa romana di San Basilio come elementi di recupero e altre in collezioni private, e Raffaello sicuramente le avrà viste anche girando per Roma mentre mappava appunto e catalogava i reperti della Roma antica, e le ripropone nella sua opera un omaggio appunto all'antichità, un omaggio anche all'uomo di cultura e amante delle arti e delle antichità come Papa Leone X. Guardiamo la Bibbia che Papa Leone X sta osservando con la lente di ingrandimento, a testimonianza la lente di come il ritratto di Raffaello abbia interrotto uno studio attento delle Sacre Scritture, la lettura delle Sacre Scritture. La Bibbia è stata identificata già negli anni trenta del secolo scorso, si tratta della famosa Bibbia Hamilton, un codice conservato a Berlino, realizzato nelle miniature dal celebre miniaturista napoletano Cristoforo Orimina, e Raffaello sostituisce il codice originale presente nel manufatto conservato a Berlino, lo stemma appartiene appunto alla famiglia francese, i conti francesi Bonfort, presente nel codice berlinese, con lo stemma Medici. Sostituisce quindi lo stemma originale di questi conti francesi con quello appunto di Casa Medici. E più di un'ipotesi è stata fatta sulla funzione di questo dipinto, abbiamo detto il matrimonio di Lorenzo e Madalene de la Tour, la testimonianza forse ai posteri di un discendente di Casa Medici al soglio pontificio, la diffusione della lettura del breviario, i tre stavano appunto leggendo le Sacre Scritture. È anche probabile però che il dipinto, che originariamente doveva vedere raffigurato soltanto Papa Leone X, e in un secondo momento furono inseriti i due cardinali. Volesse essere però una prima risposta, colta e sicuramente raffinata, alle 95 tesi di Marti Lutero e alle accuse del nobile principe tedesco Ulrich von Otten. Se le 95 tesi di Marti Lutero infatti mettevano in discussione l'autorità pontificia dal punto di vista dottrinale, perché la vendita dell'indulgenza era una delle tante cause delle 95 tesi, ma non era la principale. E se le critiche aspre, dure, violente, mosse dal principe tedesco von Otten, nei confronti proprio personali, nei confronti di Papa Leone X, ecco che questo dipinto forse vuole essere la risposta a tutte queste critiche. Perché a testimonianza di ciò possiamo vedere come Papa Leone X stia compiendo un gesto con la mano, stia sollevando la pagina del Vangelo, che possiamo riconoscere appunto come il prologo del Vangelo di San Giovanni, si legge benissimo il cosiddetto Inno al Logos che San Giovanni compie nell'incipit del suo Vangelo, ma sollevando la pagina iniziale del Vangelo di Giovanni, che cosa fa? Leone scopre la pagina del Vangelo precedente, il Vangelo di Luca. Quindi questa pagina immortalata da Raffaello nel ritratto non sarebbe dunque un omaggio soltanto al nome di Papa Leone, Giovanni appunto, e Giovanni è il nome dell'Evangelista, ma forse il tentativo di rinviare al Vangelo precedente, quindi al Vangelo di Luca, in cui si parla molto spesso della necessità della penitenza, di da un degno luogo al culto, si legge nel Vangelo di Luca, pari di importanza, se non superiore addirittura al Tempio di Gerusalemme, e della remissione dei peccati. Quindi un tentativo, ancora una volta politico, da parte di Leone X, di utilizzare l'arte, la pittura, per sdoganare, per rispondere in maniera colta e raffinata alle critiche mosse a livello religioso, ma anche politico, da Marti Lutero e dai principi protestanti tedeschi.